Lavoro e riforme, questi due temi che saranno al centro del nono congresso nazionale della CISAL che si apre domani a Rimini. Il messaggio che noi vogliamo lanciare con questo congresso nazionale è che le riforme non si annunciano, le riforme si fanno, si concordano, si devono stabilire dei percorsi che consentono di avere un ampio respiro di vedute del sistema Italia. Diciamo anche che bisogna stabilire le relazioni sindacali per i settori che servono perché non è che non si intende i sindacati e alla fine si fanno le buone riforme. Noi vogliamo essere propositivi e vogliamo partecipare al rilancio del Paese. E il sindacato chiede risposte in tempi brevi al Governo. A noi non a caso abbiamo scelto come titolo il lavoro che non c'è per collegare a una serie di aspetti e per dire alcune proposte di come poi alla fine si potrebbe creare il lavoro. Perché dire questo non va bene o solo non va bene non è giusto da parte di un'organizzazione, si deve essere concreti. Allora noi leghiamo il concetto del lavoro alle riforme. Secondo noi quello che è più importante in questo momento affinché si possa dare respiro agli italiani è la riforma del fisco.